Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. A cominciare dalla 1 dove troviamo coda per traffico verso sud tra Bivio 1 Variante e Bivio 1 Complanare e Firenze Nord, verso Bologna, coda per traffico tra Firenze e Scandicci e il Bivio con la 11. Qualche problema sulla Firenze Mare per lavori, coda di 8 km in direzione Firenze tra Pistoia e il Bivio con la 1, verso Pisaco dai 2 km tra Firenze Ovest e Prato Est. Infipili rallentamenti per i spostamenti mattutini tra la Strassigna e Firenze e Scandicci in direzione del capoluogo. Siamo al traffico urbano di Firenze e ricordiamo che per l'operazione di soccorso e messa in sicurezza è ancora chiusa via del Ponte di Mezzo tra Via Mariti e Via Giovanni dei Marignolli con deviazioni già in vigore delle linee 23 e 55 di autolinee toscane. Quest'oggi inoltre, 21 febbraio, in programma una manifestazione indetta dai sindacati CGL e Will in occasione dello sciopero nazionale contro le morti sul lavoro. Il presidio inizia alle 16.30 in Via Mariti ma i provvedimenti di mobilità scattano a partire dalle 9. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Buonasera, versi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città meropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.